E' la Lazio, niente, e' la Lazio, niente, e' la Lazio, niente, forza, niente, stagia. Numero 24, Bruno Fissi, torna in campo, il nostro capitano, numero 10, Francesco Otti. Come mai il Barbo in panchina c'ha un posto vicino a lui vuoto? A sciarpa! Noi siamo tifosi pallottiani, noi siamo pallottiani. Noi siamo aplombo, aplombo. Francesco Otti! Francesco Otti! Francesco Otti! Francesco Otti! Un capitano c'è solo un capitano, 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 un capitano. Arrivo a plomba, che è a posto un minuto, non c'è. Abbassi il capitano. Partei! Niente, è un capitano. Ci sta parlando. Lo ha somma volando, così! Molti devi ammonire! Non ci devi parlare, lo devi ammonire! E' il dribbling, telefonato, proprio, telefonato. Bumbia è una seconda incredibile Ma come cazzo poi a farlo giocare a cane Proprio un dog Ma non è offesa per i cani di chiamarlo cane E' uno dei pezzi più La pippa di me non mai sta Bumbia Bumbia Ma non sa cuore Ma non lo vedete? Un dog Zabbatino è il fenomeno va detto Ci ha preso un giocatore sconosciuto Uno dei più forti bomber L'aristotiles della Costa d'Avorio Eccolo Che cazzo Oh 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 Bravo Bumbia 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 Sto cazzo di merda Bumbia Cazzo di merda Bumbia Sto cazzo di merda Bumbia Sei LUCIA! Adesso le dure Vanno a giocare il portiere E per te sei l'uica E per te sei l'uica Ehhhhhh Da ieri Dagnelo in testa, il barbo, daglielo in testa è proprio un cane, è un cane dai, 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 dai dategli la poscia del capitano ALEXANDRO! no ma noi vogliamo sensibilizzare pallotta per quello che è il presidente altro che la bla 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 la figlia per quello che sono le nostre esigenze insomma noi siamo dei blogger quindi noi invitiamo il presidente pallotta a fare un settore soltanto per blog come funziona il settore per blogger che quali sono i vantaggi allora sedile de pelle sentete metti a sede guarda il gesto pc cavetto ethernet e testa dal culo lo metti a dsl perfetta alla fascia dei fachiti ho capito che ancora con testa allora ecco se ci fai questa cosa grazie siamo con un noto speaker della capitale fulvio micozzi salutare salutare forza roma vogliamo ricordare quali sono gli appuntamenti di facebook se c'è una domanda di cui sono gli appuntamenti domani mattina dalle 10 alle 12 di romano al credito e poi tutto il proseguimento della nato quindi famiglia rubi tossica giallorossa cuore giallorosso e le sedici e oggi oggi se vince che domani dai e così te voglio perché t'ho sentito invece su facebook un po non mi aspetto niente invece aspetto un bel 3 a 0 secco 3 a 0 secco quali appuntoinaria cheacca rot degli arrugi lo è il fatto subito se vince noi palli io poi monti esco usco 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 e usco 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 usp usco 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 Grazie a tutti.